Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un caricabatterie dedicato ad iPad, iPhone 4, 3GS, in sostanza tutti i vari mila dispositivi. Il caricabatterie d'auto è un attimo particolare perché porta in note due porte USB in uno spazio decisamente compatto. L'accessorio in questione è realizzato da Anycast Solutions, abbiamo già eseguito unboxing, gallerie fotografiche, recensioni di diversi prodotti di questa azienda, davvero interessanti e caratterizzati soprattutto da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nello specifico vedete appunto il box è compatto, confrontatelo con la dimensione della mia mano, parliamo di un caricabatterie d'auto, procediamo ora all'unboxing di questo accessorio, così da farvi vedere cosa c'è al suo interno, notiamo appunto la relativa scatolina, come vedete abbiamo appunto il caricabatterie d'auto in bella evidenza, procediamo ora all'estrazione, è l'unica cosa appunto che trovate all'interno. Di caratteristico il caricabatterie ha il paio di connessioni USB, come vedete quindi è compatto ma molto utilizzabile, poiché potete caricare un paio di dispositivi in un colpo solo. Si è chiaro che sarà poi da noi provato su strada, vi faremo una rapida recensione, vedremo appunto se collegandolo alla macchina funziona, ricarica, insomma questa è la sua funzione, in questo caso sarà particolarmente semplice vedere se effettivamente fa il suo dovere oppure no. All'interno del box di vendita non c'è altro, come potete facilmente apprendere. In ogni caso sarà nostra premura aggiornarvi quanto prima, per questo vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzino. Grazie a tutti.